Allora, buon pomeriggio a tutti, grazie di essere qui. Io sono Mirko Piccin, io lavoro in Fab Lab a Castelfranco Veneto e oggi sono qui per parlarvi di ROS. ROS è un progetto molto interessante, open source, legato al mondo della robotica, sia diciamo dal punto di vista dell'UI, ma anche dal punto di vista industriale. Partiamo con un po' di storia su questo ROS. Allora, diciamo tutto nacque nel 2007, quando praticamente due ragazzi dovevano fare un dottorato di ricerca e si misero a cercare, per il loro dottorato ovviamente, qualcosa in giro, diciamo già pubblicato, sulla robotica. Cioè loro dovevano fare praticamente il loro lavoro, era incentrato sui robot. E trovarono parecchio materiale, però non trovavano una linea comune nel materiale che avevano trovato. Cioè trovavano un sacco di cose interessanti, arrivate anche funzionanti, però materiale che non si era in grado di rielaborare, perché magari il codice era scritto coi piedi o perché magari non era commentato, o proprio non era, in parte non erano condivise, non era pubblicata e poi il tizio che aveva fatto il progetto magari, se era universitario, è riuscito all'università, aveva lasciato perdere tutto. E praticamente si esero conto che in tutti questi progetti legati comunque al mondo accademico, il 90% del tempo speso da dottorandi o comunque da ricercatori era sempre su riscrivere codice. E solo il 10% era su innovazione. Quindi loro dissero, si posero questo quesito, perché dobbiamo ogni volta, non è che la fecero loro, fecero fare, poi dove andarono a lavorare, questa specie di locandina per spiegare un po' questo concetto dove si vede appunto questa specie di cane che si morde la quota di gente che dice dai facciamo qualcosa di nuovo, cerchiamo qualcosa, no no lo scrivo da zero e poi quando si arriva il momento di consegnare bisogna fare ricorse, quindi tutto viene lasciato e abbandonato un po' a se stesso. E quindi praticamente loro si fice venire questa idea, perché non creare qualcosa che è come Linux però per la robotica, qualcosa di open source ma condiviso in modo che tutti quanti abbiano una base su cui lavorare per cui si risparmia molto tempo per fare le cose semplici e si può lavorare sulle cose complesse, cioè fare vera innovazione. Diciamo che era anche il periodo in cui c'era stato appena successo di Arduino, open source, hardware, quindi insomma tra Linux, tra Arduino, insomma questi qui si erano belli caricati ed è facciamo questa cosa qui. E quindi cosa fecero? Loro andarono a cercare finanziamenti, perché ovviamente se vuoi fare qualcosa di open source di così grosso, diciamo hai bisogno comunque di un po' di soldi, perché costruire anche i deputati di più su cui lavorare per esempio. Non riuscirono a tirare su niente, se non tipo 50.000 dollari ovviamente, perché non è che bussarono a molte porte ma nessuno li rifinanziò, ma con quei soldi che tirarono su diciamo costruirono questo primo robot che era il PR1 e con questo PR1 iniziano a registrare dei video dove facevano vedere cosa si poteva fare con magari un framework open source di robotica e praticamente se voi cercate in rete, io non li ho linkati qui ma ci sono dei link nella sedia stessa, dei video vedete questo robot che svuota dalla lavastoviglie oppure che riordina la stanza dei giochi, quindi cose abbastanza inutili, però diciamo che fa vedere le potenzialità di quello che sarebbe stato uno strumento sviluppato bene e condiviso. Anche con questo robot non riuscirono a fare molto, dire la verità, nel senso che sì, lo portavano in giro, lo facciano vedere ma non è che ottenessero nulla. La loro fortuna, diciamo, arrivò fortuna, diciamo, le cose prese in una piega giusta quando entrarono in Willow Garage, che era una specie di spazio con un signore, il proprietario di questo spazio, una persona che già aveva lavorato con open source ma anche con aziende molto molto grosse come Google per esempio e sapeva un po' quale leve muovere. E praticamente anche loro finalmente capirono che per poter portare avanti questo progetto la prima cosa da fare era creare una vera community, cioè non potevano fare il loro lavoro di costruire un progetto open source e poi condividere, ma creare quindi tutta la community. E quindi si misero a fare un sacco di attività legate alla community a parte, diciamo, cercare di fare convegni, dei corsi. Fecero anche una cosa molto interessante, chiamarono tutti quelli che avevano già lavorato su progetti di robotica, che avevano condiviso qualcosa e li invitarono genuinamente dicendo, ragazzi noi vogliamo fare un framework open source per tutti sulla robotica. Voi avete fatto dei vostri progetti, cerchiamo di valutare insieme quale dei vostri è meritevole e portiamo avanti uno solo di questi progetti. E alla fine, discorso e discorso, non mi viene fuori che nessuno dei progetti era da portare avanti, ma c'era bisogno di creare un nuovo progetto. Perché? Non perché c'era da riscrivere il nuovo tutto da zero, ma semplicemente perché ogni progetto aveva una licenza diversa e loro avevano invece un obiettivo vero e proprio, cioè un obiettivo preciso che avevano di creare un framework che potesse essere utilizzato sia, diciamo, da un utente privato, sia da un'università, ma anche da un'azienda che voleva fare un prodotto da vendere. Ok? E quindi di fatto decisero di partire da zero appunto per motivi di licenze e la licenza che venne scelta fu la BSD, questa qui la BSD 3 clause, insomma, clause dole. Ok? Poi in realtà ancora oggi il core di questo framework è a questo tipo di licenza e poi ci sono più di 2000 plug-in diciamo sviluppati da altre aziende, da altri utenti che hanno licenze anche diverse e ovviamente uno se deve fare un progetto inserendo plug-in diversi dovrà valutare poi a sua volta il tipo di licenze. E insomma arrivarono a sviluppare il PR2 che era un robot molto più, diciamo, più strutturato, anche più bellino da vedersi, già basato su questo, sulle prime beta di questo ROS e facevano anche tanti eventi come vi dicevo, tra cui anche hackathon, per esempio questo è il risultato di un hackathon in cui praticamente si chiamava BeerMe, il progetto che vince questo hackathon era praticamente il robot l'avevano programmato perché andasse a prendere le birre, quindi era tipo una delle cose che si possono fare con i robot che sono appunto molto utili. Però dissero anche, attenti che questo robot costava tipo qualche centinaia di miliardi, dollari comunque, è facile dire vabbè ma facciamo un progetto open source e poi usiamo hardware che costa così tanto. In realtà diciamo il progetto è sul software, non sull'hardware, quindi il loro obiettivo non era fare hardware a basso costo, ma nonostante comunque lavorarono su dei progetti che fossero la portata di tutti, soprattutto anche magari delle università o di enti di ricerca e svilupparono questo come primo prototipo per tutti diciamo, che era il turtle bot. Questo praticamente se vedete bene ci sono delle cose che riconoscete, c'è una Kinect, ok, che è qui sopra, la vedete, c'è un netbook praticamente e sotto hanno usato un iRobot che è praticamente una versione più aperta del Roomba, no? La Roomba, l'azienda iRobot è quella che fa i Roomba credo proprio, ha una versione che si chiama iRobot, non mi ricordo come si chiama, insomma praticamente questa qui espone tutti quanti un connettore per potersi attaccare e quindi diciamo programmarlo proprio a piacimento, quindi come base usarono quelli in modo da avere un robot che potesse andare in qualsiasi direzione, poi c'era un netbook con tutta la parte di codice che girava e poi c'era questa Kinect che serviva per fare visione di profondità e quindi evitare gli ostacoli vi dicendo, no? A partire da questo progetto poi ne sono nati degli altri, anche moltissimi progetti open source che trovate ancora adesso, se voi cercate tipo ROS open source di 2iUI, allora over trovate cose del genere dove invece della Roomba che costa comunque qualche centinaio di euro, uno mette dei motori normali con diciamo un driver di quelli che usano di solito con Arduino, usa sempre la Kinect e invece magari usa una Raspberry invece di usare un netbook, cioè queste cose girano anche su questo hardware. Però la cosa interessante è appunto che anche qui come hardware, diciamo lo stesso ROS girava su questo hardware come sul robot di prima, solo questo hardware costava da 600 e 1000 dollari, una cosa del genere rispetto alle centinaia di mille di dollari di prima. Nel 2013 successe poi che il progetto passò dal Willow Garage all'open source robotics foundation, quindi di fatto adesso tutto il progetto ROS è oneri e onori, tutti quanti in capo a questa fondazione. Nel 2013, sempre nel 2013, qualche mese dopo, nacque anche la ROS Industrial, è un consorzio, ovvero si misogna insieme dell'università e con delle aziende dicendo, vabbiamo questo ROS è veramente potente, perché non proviamo a usarlo anche nell'industria? Cioè per esempio i bracci robotici sono ovunque nell'industria di giorno, perché non proviamo a inserire questo software qui dentro? Perché se l'open source ha tutti i pregi dell'open source, poi se volete li elenchiamo. E quindi nacque appunto questo consorzio, adesso questo consorzio ha 60 e passa membri, vedete alcuni marchi qua, c'è BMW, Bosch, 3M, c'è mica noccioline, ma cosa vuol dire? Non è che qui entriamo in un santa sanctorum dove nessuno vede niente, non tocca niente, in realtà è tutto open source, anche ROS Industrial è open source. Per esempio, facciamo l'esempio, KUKA fa un nuovo braccio robotico e dice, vabbè, caro consorzio ROS Industrial, vorrei che questo braccio robotico fosse, diciamo, compatibile con il framework ROS. E ROS Industrial dice, ok, passi tutte le specifiche di questo braccio, le sue API, tutto quello che serve per connettersi a questo braccio. L'azienda fornisce tutte queste informazioni, paga un branch di sviluppo, perché l'azienda paga per avere la compatibilità del braccio con ROS, questo consorzio sviluppa, ovviamente ricercatori, cioè c'è gente collegata con l'università, questo plugin nuovo e dopo viene rilasciato questo plugin open source. Quindi praticamente se noi per esempio volessimo capire come funziona un braccio della KUKA da 500.000 euro, non so, dico così, non so cosa costi, no? Ok, potremmo andare semplicemente a scaricarci il plugin, il plugin chiamiamolo, il plugin diciamo, il modulo legato a questo braccio e avere in un ambiente di simulazione il braccio con tutte le caratteristiche del braccio vero, quindi tutti i limiti di velocità e degli assi stessi, perché esiste anche un ambiente di simulazione in ROS. Quindi noi potremmo lavorare, diciamo, su questo braccio virtuale per dei mesi e poi dire, va bene, io ho sviluppato un'applicazione con questo braccio, posso andare a un'azienda che ce l'ha, gli vendo questa applicazione, mi basta girare la chiave, quasi, e quello che ho sviluppato in ambiente virtuale riesco a farlo andare in ambiente reale, perché di fatto l'ambiente virtuale è praticamente viaggi in pari passi con quello reale. Comunque se volete maggiori informazioni poi sui singoli corsi ci sono dei link su ogni pagina. Insieme a un punto che adesso è entrato, nel 2013 è entrato nel gestito mantenuto da Open Source Robotics Foundation e diciamo e torniamo al discorso che questi ragazzi volevano fare qualcosa di open source. Adesso se noi guardiamo, c'è una mappa pubblicata nel sito ROS degli utenti, diciamo questa mappa è anche un po' vecchia, credo, e vedete che insomma non è che ci sono proprio pochi utenti sparuti, insomma è abbastanza diffuso questo framework. E di fatto se guardiamo qualche numero, come si fa di solito quando si parla di comunità, vediamo che ha praticamente nella mailing list 1.500 iscritti, ci sono più di 3.300 utenti che lavorano sulle wiki, ci sono più di 5.700 utenti che fanno domande o rispondono a Answer che è una piattaforma sempre gestita in questo progetto e la wiki ha più di 22.000 pagine. Cioè per assicurare che è mastodontico, c'è tantissimo materiale. Io capisco che uno quando pensa ad Arduino diceva che ci sono molte più di 22.000 pagine di progetti Arduino se cerchiamo in rete, però un conto è cercare di trovare un progetto pubblicato, un conto è trovare un tutorial, ok, spiegato, sempre strutturato in un certo modo con riferimento al repository GitHub, piuttosto che ai pacchetti che si possono scaricare, come utilizzarlo, come compilarlo e via dicendo. E questo è in ognuna delle 22.000 pagine che sono state pubblicate, ok, validate. Poi se volete ne vediamo una. Comunque insomma è vero su tutte queste cose. C'è sta wiki bellissima, questo Answers che è tipo una specie di domanda risposta, una FAQ e poi c'è questo discorso che è praticamente un forum. Tutte queste cose fanno parte della community di ROS. ROS è appunto diciamo che la prima release, credo sia stata nel 2010, adesso siamo arrivati molto molto avanti, ma sono dieci anni che di fatto esiste la beta di questo progetto e qui ci ha linkato un video se volete vederlo con praticamente tutto quello che è stato fatto in questi dieci anni, quindi sia dal punto di vista di ricerca, quindi in università, che da utenti privati, che anche da proprio consorzio ROS in industria, per esempio. Quindi sono progetti molto fighi di robot che, possiamo vederlo, forse, vediamo. Dura due minuti e mezzo, non dura tanto, è veramente poco. Se ce la fa la rete, se non ce la fate, non importa, non ce la farete. Però vi ripeto, nelle slide c'è il link, quindi potete guardarlo anche dopo. Però quello è un assumo di tutti i progetti fatti sia da università, eccetera, eccetera, eccetera. Però a noi ci interessa più magari il lato open, source e comunitario di questo progetto. Bene, questo per esempio è una foto di progetti open source pubblicati da utenti e gestiti non da aziende di, a parte uno, di bracci robotici, per esempio, un è Tor, l'altro è il Moveo della 3B-CN vicino, robot stampabili e tutti quanti compatibili ROS. Quindi vuol dire che noi stampiamo questo braccio e indipendentemente dall'hardware possiamo comunque pilotarli con ROS. Non vi faccio vedere foto di rover perché qualsiasi rover tendenzialmente è pilotabile con ROS. Basti ci sia un motore, una scheda Arduino e siamo a posto. Adesso vi faccio vedere il volissimo appunto, visto che vi ho detto che di fatto Arduino, sì, un rover, basterebbe un rover qualsiasi con un'arduino attaccata per, diciamo, ah è qua, è già stata frutta, è già fuori, che appunto basta un rover con un'arduino per già usare ROS. Vediamo come possiamo per esempio attaccare una scheda Arduino, lo so che non è niente a che fare con la robotica, ma fa capire un po' come funziona il framework ROS, una scheda Arduino a questo sistema ROS e vediamo cosa possiamo fare. Molto velocemente, c'è una prima demo che è molto semplice, poi se finiamo presto c'è un'altra demo molto più figa perché c'è anche l'ambiente di simulazione con un rover molto bello. Allora andiamo qui e ci apriamo la console. Vi prego di guardare bene i passaggi perché in realtà dopo, non è che mi interrogo, ma è perché dopo mi attacco, mi collego. Ora come prima cosa avviamo sostanzialmente il master, ok? Nell'ambiente rossa abbiamo un master, ok? E poi abbiamo una serie di nodi che si collegano, ok? Lanciato da una console, vedete, lui parte. Adesso con questa bella, vedete che bello questo terminale, si può aspettare così in modo figo, mi piace. E praticamente lanciamo un altro comando, ross run, ok, ross serial, python, serial node, dev tty, scusatemi, termino le mani, sono emozionato. E che caspita, cm0 dovrebbe essere. Allora praticamente, qua ho lanciato il core, vedete, il core semplicemente gira. E poi sto lanciando un nodo. Allora il ross run, quindi run, il nodo di tipo ross serial python e poi ha, vedete che ho due parametri che lancio questo ross run. Il primo mi fa capire che c'entra qualcosa con la seriale, no? Perché c'è scritto ross serial e che c'entra anche python. E poi mi fa vedere che il secondo parametro che lancio, che serve praticamente un eseguibile che all'interno di questo nodo, è serial node. Praticamente vado a inizializzare un nodo seriale facendolo puntare alla porta dev tty, acm0, che è praticamente la porta seriale che è stata generata da Arduino una volta collegata. Se ho dei dubbi posso andare qui, fare un bel dmessage e mi fa vedere che ha che palle. Faccio così, ls dev tty acm0, vedete c'è, abbiamo sta cm0 che è Arduino, lo so, fidatevi, è lei. Ok, lei lancia e si collega la porta seriale a 57.600 bau. Ora, praticamente, io cosa ho fatto? Sono andato prima, in realtà altre volte, prima di oggi, però oggi l'ho rifatto, sono andato sul sito di ROS, la wiki, ho cercato Arduino, il plug-in, ho visto che c'era un ROS serial Arduino, l'ho installato, con un pacchetto neanche compilato, e poi vi spiego un po' meglio questa cosa. Poi sono andato a vedermi la guida, mi dice, guarda, per usare questo, devi scaricare questa libreria su Arduino, caricala, questo è l'esempio per pubblicare tutti quanti i PD analogici, quest'altro per quelli digitali, quest'altro per comandare nella C, eccetera, eccetera. Ci sono un sacco di esempi, veramente. E dopodiché ho installato questo firmware su Arduino, l'ho caricato, collegato alla scheda Arduino e ho lanciato questo. Adesso, come vedete, io ho lanciato questo nodo e non sta succedendo assolutamente nulla. Voi direte, va bene, quindi. Ora, in realtà, diciamo che questa è una prima parte, no? Cioè, praticamente a ROS funziona che abbiamo un nodo che ci può collegare a questo master, ok, e passare delle informazioni, ok? E questo è il primo passaggio. Il secondo passaggio è che c'è qualcun altro che prende queste informazioni per farci qualcosa, no? Allora, la prima cosa che possiamo fare è dire, bene, vediamo queste informazioni, ok? Allora, noi siamo amati della command line, per cui diciamo, beh, la command line ci sarà un modo per vedere queste informazioni, certo. Ora, vi ho detto che queste informazioni vengono passate dal nodo. Vengono passate con un concetto che assomiglia molto a MQTT, non so a chi di voi lo conosce, però si parla comunque di topic, si parla di publishing e di subscribing, no? Quindi, praticamente, questo nodo sta pubblicando delle informazioni in un topic specifico. Quindi andiamo a usare proprio il comando ROS topic, ok, list, mi elenca i topic che sono presenti, mi fa vedere che ci sono questi topic. Quello che serve a me è quello ADC, lo so già, ma insomma l'avremmo visto, no, c'è anche scritto qua, scusate, setup, publisher on ADC, lo vedete anche di qua, ok? Quindi abbiamo questo topic che si chiama ADC, quindi possiamo fare varie cose, per esempio dire, va bene, dammi delle informazioni su questo ADC, ok? Quindi mi dice, questo ADC è di tipo ROS serial Arduino slash ADC, ok? E il publisher è questo serial node. Ora, questo so che è il pubblicatore di questa informazione, e questa informazione ha un certo tipo, sapete i tipi di una programmazione, integer, string e via dicendo, no? In ROS, visto che non è che passiamo un numero o una string, ma passiamo molte informazioni, esistono dei tipi di dati che si possono costruire, sono la fine delle strutture dati. Ok? In questo caso la struttura dati che viene utilizzata è questo ROS serial Arduino ADC. Possiamo anche andare a vedere che tipo di dato è, se ne facciamo ROS message, ok? Info di questo ROS serial Arduino ADC, ci dice che questo qua è composto in realtà da sei dati di tipo intero o 16 bit, ok? Quindi possiamo andare molto in profondità anche con semplici comandi e capiamo che cos'è che dovrebbe arrivarsi. Adesso andiamo a fare, invece, a vedere cos'è che sta arrivando da Arduino, no? E quindi possiamo usare sempre il comando ROS topic, facciamo un bel echo, che si usa anche con Linux, o con Linux questo, e facciamo che vogliamo visualizzare il topic ADC. Vedete che continua a spararmi, è in continuo aggiornamento, diciamo sei righe da ADC0 a ADC5, ok? Con dei dati. Io in realtà il codice l'ho modificato perché non passassi i dati degli altri 5bd analogici perché ho collegato solo un potenziometro, ma se gira questo potenziometro vedete che il valore cambia. Voi direte, vabbè, che ci vuole? Basta, il codice Arduino, la seriale, fai uguale, no? Sì, è vero, è vero. Però questi dati che possiamo prenderli poi e farsi qualcos'altro. Cosa? Un sacco di robe. La cosa più semplice che possiamo fare, oltre a visualizzarli, veri e proprio, è quello di dire, va bene, proviamo a vederli in modo plottato, no? Ci sono dei tool già pronti che permettono di vedere i dati così inutili come arrivano. Quindi facciamo Qt, plot, non è plot, no, plot, e quindi lo lanciamo. Questo praticamente è uno dei tool che sono presenti in ROS, basati sulle librerie Qt, in questo caso abbiamo, questo serve a plottare dei dati, no? Quindi in questo caso diciamo bene, che topic vogliamo vedere ADC, abbiamo detto, no? Eccolo qua, noi abbiamo ADC da 0 a 5, vogliamo togliere tutto tranne l'ADC 0, perché non ci serve, in realtà potevamo lanciarlo passandogli un bel parametro, e adesso se io muovo il potenziometro, vedete che praticamente vado a plottare i dati che arrivano da seriale. Questa è una stupidaggine da fare, però è interessante perché ti permette di avere uno strumento molto molto semplice per vedere i dati in tempo reale che arrivano. Un altro strumento che ci permette di capire un po' la logica, vedete che sta continuando andare, la logica di ROS, della struttura di comunicazione, e anche quest'altro tool che si chiama, è sempre basato sui librerie Qt, graph. Questo praticamente permette di visualizzare il computational graph, si chiama, cioè praticamente l'insieme dei nodi che comunicano tra di loro. Quindi vedete che abbiamo il serial node, questo serial node sta mandando su un topic ADC delle informazioni, e a questo topic ADC si è iscritto questo, questo è praticamente questo qui. Io qua ho detto fammi vedere i dati che arrivano e questo mi rappresenta esattamente questo altro nodo. Ogni cerchietto è un nodo, ogni quadrato è un topic. Se questo qui lo chiudo, lo fermo e torno a guardare questo, ok, aggiorno, ok, vedete è sparito quello dopo, perché mi fa vedere in tempo reale la struttura dei nodi che comunicano tra di loro, ovviamente adesso vamo un po' con niente, vamo due nodi. Ok, e questo è un primo esempio, perché ci permette di capire poi come andare avanti, poi ce n'è un altro più bello ovviamente. Ok, torniamo qui velocemente, ok. Ah sì, vi faccio vedere al volo questa che è la lista di pacchetti per questa versione di ROS. Mi sono dedicato a dire che ROS praticamente va in pari passo con le LTS di Ubuntu, quindi ogni volta che c'è una long time support nuova contestualmente esce anche una nuova release di ROS, perché ovviamente ROS è considerato uno strumento affidabile e segue un po' il concetto del long time support. Qua vedete abbiamo praticamente, queste sono tutte le distribuzioni disponibili di ROS, ok, noi adesso stiamo usando la Kinecti che è la stabile praticamente, ormai è uscita nuova LTS di Ubuntu, quindi sarà, è la X stabile. E qui vedete che ci sono un bel po' di driver, scusate, i moduli di pacchetti disponibili. Questi sono tutti quanti, se vedete i nomi ce n'è, ognuno è fatto da, c'è un mantener diverso, quindi questi sono tutti quanti i moduli open source. Se per esempio noi andiamo a vedere qui su CV Camera, ok, cos'è questo CV Camera? Usa OpenSv per catturare oggetti, va bene, proviamo a vedere questo modulo. Quando lo apriamo, entriamo in questo, in questa piccola pagina e se noi ci clicchiamo all'interno del website, che è la wiki di ROS, vedete che arriviamo in una pagina in cui abbiamo, e questa è la pagina della wiki che vi dicevo prima, per ogni pacchetto c'è questo, per ogni roba c'è questo, vedete c'è il link al repository GitHub, ok, c'è scritto come installarlo, come funziona, cosa pubblica, che servizi a metà disposizione, i parametri, come si fa a utilizzare. Quindi praticamente c'è tutto, veramente, e oltretutto scusate ancora in multilingua, cioè se è possibile anche, mi sembra che c'è anche in Italia, ci sono un sacco di lingue già tradotto in tantissime lingue, quindi veramente si tratta solo di mettersi a leggere, ok. Come avete visto ho usato la command line, perché di fatto, come vi dicevo prima, ROS non solo segue le distribuzioni Ubuntu, ma è basato su Linux, praticamente esiste forse la nuova versione di la Luna, se non sbaglio, che gira anche sulla, mi hanno detto che gira su una console di Windows 10, non so se esiste una roba del genere, qualcosa, qualche porcata del genere, però di fatto di sotto gira benissimo su Linux, anche su piattaforme, su hardware ARM, quindi anche su appunto Raspberry, e di fatto esistono delle librerie per programmare i nodi, e sono di fatto librerie Python e C++, quindi praticamente se noi vogliamo sviluppare un nodo che per esempio prende il dato che arrivava da Arduino per muovere un braccio robotico sui giù in base al potenziometro, potremmo scriverlo in Python o in C++, tranquillamente, ovviamente in C++ va compilato, in Python non serve. Però esiste anche un altro pacchetto molto interessante che si chiama ROSBridge, ok, che permette praticamente di pubblicare attraverso un web socket, attraverso una porta di CPAP, delle API, con cui ci si può condettere attraverso una connessione, diciamo, appunto web socket o connessione TCP e IP, e quindi di fatto in realtà potremmo programmare in qualsiasi linguaggio, nel senso che se noi avviamo il socket, basta collegarsi alla porta, per esempio web socket alla porta 9090, e con qualsiasi linguaggio di programmazione che sia Java, JavaScript, PHP o quello che vogliamo, possiamo interagire con il sistema ROS. Questa è un po' un'immagine di uno schema pseudo classico di un progettino ROS, ovviamente noi adesso abbiamo un Arduino attaccato, quindi nel nostro grafico avevamo un quadratino che era un topic e un cerchietto che era l'Arduino che passava i dati attraverso ROS seria. In realtà in un progetto normale magari tu puoi avere una Kinect, che è un sensore, quindi lei sarà un nodo, puoi avere l'iRobot che muove il nostro robottino e quello è un altro nodo, puoi avere un braccio robotico montato sopra e quello è un altro nodo ancora, su un PC, e poi su un altro PC ancora avere, che so, un'interfaccia grafica per visualizzare i dati raccolti da telecamera e vi dicendo. Il concetto che vedete qui è che anche qui ci sono dei quadratini con scritto topic 1 e topic 2 e i nodi con scritto publish e subscribe, praticamente è tutto un discorso di nodi che fanno una cosa semplice e bene e generano degli output, oppure accettano degli input e poi uno può metterli insieme e costruendo delle cose molto più complesse. Rispetto all'MQTT standard, diciamo perché vengono mutuate molto le parole dell'MQTT, in questo caso il master serve solamente ad inizializzare la comunicazione tra i vari nodi, ma non mantiene lui traccia della comunicazione, nel senso che una volta che il nodo 1 dice devo iscrivermi a questo topic che è il topic dell'Arduino per dire, il master dice sì guarda che è quello lì, lo genera quel nodo lì, lui si connette direttamente all'altro nodo e il master è scarico, ovviamente il master è veramente sempre molto scarico. Tutto il lavoro, diciamo di calcolo, è adibito, è scaricato sul nodo stesso, quindi di fatto se uno ha una telecamera di profondità e deve fare elaborazione di nuvole, di punti, ovviamente deve essere una macchina corazzata, non è che il master lo fa, lo fa il nodo stesso. Esistono poi oltre a questa specie di topografia, come si chiamano insomma di nodi, di topic, vi dicendo, esistono, vediamo un attimo gli strumenti, avete visto c'è la command line che è praticamente lo strumento principale che si usa con ROS, poi esistono anche degli strumenti basati su Qt, li abbiamo visti un paio, il plot e il graph che permettevano di plottare i dati, di fare la computation graph, diciamo di vari nodi presenti. Esiste un'altra cosa molto interessante che si chiama bag, che serve a registrare i bag, cosa sono questi bag? Bag è tipo la borsetta, di fatto noi possiamo dire, bene, ho collegato la scheda Arduino, adesso che ho collegato la scheda Arduino avvio la registrazione di un bag e quindi io, è come se accendessi il videoregistratore mettendo REC e io adesso inizio a muovere il potenziometro, tutti i valori che vengono generati a questo Arduino vengono salvati in questo bag, poi chiudo il bag, chiudo la registrazione, stacco l'Arduino e vado a casa, perché l'Arduino non è mia, vado a casa e dico, bene, adesso ti ho un braccio robotico, come farai a controllare quel braccio robotico un Arduino? Bene, io ho quel bag, lo apro e quindi rimando in esecuzione quello che avevo fatto prima, nel nostro framework cross è come se avessi l'Arduino attaccato e se ci sono il potenziometro, anche se non ce l'ho, quindi questo permette praticamente di fare replay infinite volte di dati che ho raccolto, è utilizzato per fare debug, quando abbiamo delle cose che non conosciamo, di solito se sono bug, si registra tutto e poi si analizza in un secondo tempo, perché si può mandare proprio anche a rallentatore, diciamo, come un videoregistratore. E poi esiste l'integrazione con altri sistemi, cosa vuol dire? Praticamente non è solo command line e quegli strumenti RQT, esistono strumenti molto fighi come Gazebo che servono a fare praticamente simulatore, simulazione indoor e outdoor anche di robot e quindi dopo vedremo proprio su Gazebo una simulazione, ce la facciamo, poi c'è l'integrazione con OpenCV che conosce tutti, insomma, è praticamente la libreria di computer vision più famosa al mondo, poi c'è l'integrazione con PointCount Library che praticamente è usata per sezione, quindi se usiamo delle camere 3D serve praticamente elaborare in forma di nuvole di punti per estrarre oggetti o via dicendo, poi MoveIt che è un'altra libreria, un altro strumento veramente figo che permette di fare motion planning, quindi se per esempio noi abbiamo un braccio robotico e vogliamo che il braccio robotico da punto A va da punto B, di solito come si lavora? Si lavora con delle pose, cioè io dico questa è la posa 1, questa è la posa 2, devi passare attraverso la posa XYZ perché devi evitare un ostacolo. In realtà noi possiamo dire con questo sistema il robot deve andare dal punto A al punto B e è questo motion planning che studia la traiettoria che deve seguire il robot, per cui se per esempio ho una camera di profondità davanti al robot e ci metto uno scattone davanti, questa viene vista e in tempo reale il planning del movimento viene cambiato considerando l'ostacolo, quindi diciamo è molto figo come sistema, è molto dinamico, ovviamente per fare delle cose complesse bisogna avere molti nodi, bisogna scrivere anche un po' di codice, però di fatto ok, ultimi 5 minuti, diciamo che infatti sono arrivato quasi giusto, esiste anche un progetto che si chiama Rosin, questo progetto Rosin è un progetto che fa parte del progettone Super Horizon 2020 europeo che praticamente sono fonti di finanziamento per progetti innovativi e altre cose che non conosco, ma di fatto ci sono 3 milioni di euro disponibili per sviluppi legati al mondo rosso e quindi se per esempio voi avete un'azienda ma volete anche provare a fare un centro di formazione sull'host, non lo so, potete applicare in questa Rosin e potete avere sulla formazione fino al 50% di finanziamento, sulla parte diciamo di progetti industriali, non lo so, comunque insomma è aperto, è ancora attivo, qui c'è anche il link e questo è tutto, adesso abbiamo due minuti, vediamo la simulazione del roverino, lo vediamo, intanto qui c'è la mia email qui sotto e qua c'è anche l'indirizzo del nostro FabLab, comunque velocissimamente, intanto abbiamo nessuno si sta dice nulla, torniamo sulla nostra console, sul nostro command line, ok e andiamo a vedere, beh chiudiamo la roba Arduino, chiudiamo tutto e andiamo a vedere per esempio una simulazione, allora quel Tartlebot era la prima versione, sono uscite varie versioni, adesso c'è il Tartlebot 3 che è una cosina grande così ce l'abbiamo anche noi, è fighissimo, è divertentissimo, però ovviamente tu non hai che lo dai a uno e dici ti giocaci, lo fai lavorare prima in simulazione e quindi vediamo che c'è proprio un pacchetto per la simulazione, si installa tranquillamente così è sudo apt, meno get, install e via dicendo, c'è tutta la libreria, se facciamo così, apt, cache, search, ROS, vedete che adesso inizia una roba assurda, vedete ci sono un sacco di pacchetti ROS per vari distribuzioni già disponibili, c'è praticamente da aggiungere una source nei repository e lanciamo praticamente ROS launch perché questo è molto più complesso, Tartlebot, anche qua funziona l'autocompletamento, solo che ovviamente più roba c'è più lento è, gazebo e poi abbiamo, ok facciamo Tartlebot 3, World Launch, eccolo qua. Ora il master è sempre attivo, parte è gazebo, vedete questo è gazebo, è un ambiente di simulazione, quindi praticamente abbiamo il nostro, è una specie di circuito simulato e qui abbiamo anche, no vediamo se riesce a girare, no come che si fa girare, c'è un modo per ruotare, ah ecco così, eccolo qua, si può ruotare e zoomare, vedete questo qui è praticamente il robottino simulato. Ora abbiamo anche la possibilità di dire, bene, proviamo a pilotarlo, allora abbiamo un ROS run, RQT robot steering, se non sbaglio, robot steering, sì, RQT robot steering, intanto vediamo, scusate, ROS topic list, che topic ci sono, vedete che sono comparse un po' di topic in più rispetto a prima, molti legati con gazebo, però quello che ci interessa, perché lo so ormai, è CMDvel, questo è praticamente un topic che serve a comandare, diciamo, robot che è sulle ruote, è sempre quello il topic, appunto perché è uno standard, quindi se vi fate un vostro robot, farete in modo che funzioni con quel topic, no? Se andiamo a guardare quel topic, come è fatto, vedete che abbiamo, ve lo faccio vedere al volo, ROS topic info, CMDvel, vedete che praticamente il tipo di dato è una geometria, un twist, ok? Quindi praticamente ci permette di, è una geometria per, sono dei valori che permettono di muovere e di ruotare un robot. Tornando qui, scusate, lanciamo questo robot steering, che è praticamente una piccola interfaccia fatta con QT, per avere una specie di sistema per controllare. Torniamo su gazebo, eccoci qua, e torniamo a aprire il nostro, questo. Adesso vedete che se io muovo questo cursore in centro, praticamente il robottino va avanti o indietro. Ok, questa è una simulazione, ma se io avessi il robot reale, avessi lanciato un comando diverso, io adesso tra i pilotare il robottino reale, ok? Con questo mi permette appunto di fare un sacco di roba interessanti. Adesso, dimmi, sì, sì, live, live, sì, certo. Adesso questo qui ce l'abbiamo, non l'ho portato perché se no ci mettevamo quattro ore, però potresti metterlo giù, lo accendi e lo piloti con la stessa interfaccia, perché il topic a cui io ascolto lui è sempre il CMD-Vell. Adesso non solo, voglio farvi vedere anche questo prima cosa, giusto per vedere che si può espandere all'infinito. C'è chi ha detto, va bene, ma per controllare il robot perché devi usare questa specie di interfaccia schifosa oppure usa una tastiera, perché non posso usare un joystick del videogioco? Ora c'è chi ha sviluppato, se voi andate a guardare i pacchetti, c'è proprio quello per usare il Joypad, quello dell'Xbox, però c'è anche quello della Wii. E quello della Wii, allora, lo possiamo lanciare velocemente, aspetta che non lo ricordo tutti i comandi. Allora, ok, quindi dobbiamo lanciare prima Rosal Run, Wiimote, attenzione, Wiimote, e dobbiamo lanciare quello per Wiimote Node. Ok, dove dirmi di fare DiscoveryMod. Ok, ma è collegato? Si è collegato. Adesso lanciamo un altro, apriamoci un'altra console ancora, facciamo, spittiamo questa, che è tanto spazio, e facciamo Rosal Run, di sempre Wiimote, e il comando è Teleop, Wiimote. Teleop è il nome con cui si chiama di solito lettero operation, c'è proprio il controllo remoto, no? Adesso faccio Ros Topic Eco. Topic Eco, Cemi di Vell. Ok. In teoria dovrei vedere... Ah, porca patata. Aspetta, non si vede. Facciamo di nuovo. Questa volta e va, a volte non va, infatti c'era il rischio, ma intanto il tempo era quello. Allora, sincronizzato. Eh, brutta roba ragazzi. Ora questo stoppiamo un attimo, questo facciamo di nuovo, che poi Wiimote, DiscoveryMod. Time out. Dai, così magari mi salvate... Ecco. No, mi spiace ragazzi, devo chiudere. Prima funzionava, l'ha visto anche un ragazzo seduto lì, and due, aveva uno di qua e uno di là, e andava, e comunque praticamente, ovviamente si collega via Bluetooth, quindi il problema è qualcosa di Bluetooth, e è possibile appunto col Joypad muovere il robot. Genera lo stesso praticamente questo tipo di informazioni. Esistono anche delle applicazioni per il cellulare, per Android, una si chiama Teleop, lo trovate, che genera anche lui lo stesso tipo di messaggio, lo stesso topic, per cui è possibile praticamente andare a controllare questa roba qui. virtuale in questo caso, ma anche reale. Quindi, beh, vi dico di nuovo ciao, però se volete venire a trovarci a Fab Lab, o se trovate qualcun altro che lavora con Ross qui in zona, abbiamo sia un piccolo braccio robotico, che anche un rover, il Turtle Bot, e facciamo formazione su questi temi, abbiamo fatto varie volte formazione, a nostra volta, con il Consorzio Rosindastia e la Fragoforte, e a Stoccarda, scusate, e anche se volete venire solamente a giocare, provare, venite insomma, e così vedete. Ok? Grazie di tutto, e alla prossima. Grazie. 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 Grazie.